Il corno nuovo. Per questo piccolo brano, siamo sempre alla pagina 17 nella seconda parte, le due mani per una volta ritornano alla prima posizione. Come lo capisco? Semplicemente dal fatto che questo è il do centrale e il libro vedo che mi suggerisce di suonare il do centrale con il pollice della mano sinistra, per cui vuol dire che sono ritornato, in questo caso, a mettere la mano sinistra sul do insieme al pollice della mano destra. Quindi avremo delle note che si alternano, in questo caso vediamo che suona la sinistra mentre la destra ha una pausa. Quindi prima suona la sinistra, poi suona la destra, poi suona di nuovo la sinistra, poi di nuovo la destra, perché non sono mai sovrapposte l'una sull'altra, per cui queste note non sono insieme, sono prima una e poi l'altra, prima una e poi l'altra. Quindi invece avremo da suonare queste due note perfettamente nello stesso istante, perché sono scritte l'una sull'altra e questo vuol dire che devono essere suonare insieme. Grazie.